Prosegue la vicenda Ravennate che vede protagonisti dei medici indagati per abuso d'ufficio. La procura ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per i quattro medici indagati per abuso in concorso per un mancato trasferimento di una collega. La notifica con la decisione è arrivata nei giorni scorsi al direttore sanitario dell'Auslo Romagna e ricordiamo che era nata dall'esposto di una dottoressa che nel 2004 aveva chiesto il trasferimento interno dalle cure primarie di Faenza a quelle di Ravenna. La vicenda complessa aveva visto il coinvolgimento, prima di quella penale, anche della magistratura contabile. La chiusura delle indagini di qualche mese fa fa riferimento ad un presunto ingiusto vantaggio patrimoniale che i quattro accusati avrebbero intenzionalmente procurato a tre giovani medici destinatari di incarichi interni. La procura ritiene che i posti di lavoro fossero stati assegnati a medici neospecializzati e quindi con un'esperienza professionale inferiore a quella della collega dipendente Ausl. Il processo è stato dunque chiesto per le quattro persone che sono gli ex direttori dell'Ausla Ravennate Andreas De Esdorides e Tiziano Caradori, oltre a Riccardo Varliero, direttore delle cure primarie e Alberto Minardi, direttore del distretto di Ravenna.